Mentre per la decisione circa la richiesta di rinvio a giudizio, bisognerà aspettare un mesetto. Per il sottosegretario regionale alle riforme, Alberto Sarra, dopo la richiesta del PM catanzarese Gerardo Dominigliani, è già scattata l'interdizione dai pubblici uffici. In altre parole, in seguito al verdetto del GIP, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del Capoluogo di Regione, Maria Rosaria Di Girolamo, il sottosegretario dell'Aggiunta Scopelliti, è già fuori dal suo incarico a Palazzo Alemanni. Non definitivamente però, come vedremo, i suoi legali Giancarlo Pittelli e Antonio Managò hanno già impugnato la misura interdittiva in un ricorso alla Corte d'Appello forte di 16 pagine da argomentazioni contrarie. La vicenda, vecchia di 7 anni, affonda le sue radici in un mix esplosivo politica cronaca sanità. Secondo l'accusa, nel 2005 Sarra avrebbe minacciato l'allora direttore generale dell'azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli di Reggio, Renato Carullo, affinché nominasse Saverio Cipri, primario di neuropsichiatria ai riuniti. Appena una settimana addietro, il big calabrese del PDL si è difeso davanti ai giudici, negando radicalmente i fatti e ogni propria responsabilità. Anzi, Alberto Sarra, questo dottor Cipri neppure l'avrebbe mai conosciuto. Ma si diceva del 24 maggio. In quella data si andrà a una valutazione nel merito circa l'eventualità di un rinvio a giudizio. Decisione che oltre Sarra riguarderà anche l'ex governatore Giuseppe Chiaravalloti e due suoi ex assessori, il bovese Saverio Zavettieri, leader dei socialisti unimiti che all'epoca era vicepresidente dell'Aggiunta con delega all'istruzione, e il lametino Gianfranco Luzzo, allora assessore alla sanità. A questi ultimi è contestato il reato di concussione, giusto allo scopo di fare di Cipri il primario di neuropsichiatria al nosocomio Reggino avrebbero minacciato il top manager di revocargli l'incarico.